I carabinieri del ROS hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro. L'hanno cercato in tutto il mondo, nei posti più lontani e alla fine l'hanno trovato lì, incredibilmente vicino, nel centro della storia, la sua e di cosa nostra. A Palermo, 30 anni esatti dopo la cattura di Totorrina e dopo 30 anni di latitanza, Matteo Messina Denaro è stato arrestato questa mattina alle 9 nella clinica privata La Maddalena, dove, secondo fonti della stessa struttura, si stava sottoponendo a cure per un tumore da almeno un anno. 60 anni, la metà vissuti da Primula Rossa Corleonese, nascosto in fuga, lui che era un noto amante della bella vita, l'ultimo dei capi mafia di prima grandezza ancora ricercato. Dall'estate del 1993, quando prima di sparire in una lettera scrissi alla fidanzata dell'epoca, sentirai parlare di me e mi dipingeranno come un diavolo. Il primo assassino a 18 anni, con le persone che ho ammazzato io, potrei fare un cimitero, confidava un amico. Condannato all'ergastolo per decine di omicidi, tra i quali uno dei più efferrati delitti di mafia, quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, 12 anni, strangolato, sciolto nell'acido dopo quasi due anni di prigionia. Unica colpa quella di essere il figlio di un pentito. E poi ancora le mani sporche di sangue per le stragi del 92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino e gli attentati del 93 a Milano, Firenze e Roma. Presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa a lui stesso di consegnarsi e fare un arresto clamoroso. Da qualche tempo il cerchio si stava stringendo, le informazioni filtrate sullo stato di salute. Da più di un anno, quei controlli settimanali, eppure pare solo tre giorni fa la certezza su chi fosse l'anziano signore in cura per un tumore nella clinica palermitana, sotto il falso nome Andrea Bonafede. L'ultimo tentativo di fuga davanti al blitz dei Ross, poi forse la consapevolezza della fine e ai militari avrebbe confermato lui stesso. Sono Matteo Messina Denaro. Allora, il ritratto di Serena Riformato ci permette di mettere in fila un po' di informazioni. E però chiedo, mi verrebbe da dire al magistrato, al procuratore, insomma, troppi titoli dovrei mettere in fila. La chiedo all'onorevole Capiero Derao, quando parliamo di Matteo Messina Denaro, di che uomo stiamo parlando? Perché l'hanno definito in molti modi, no? Lo sciupa femmine, quello un po' sbruffone con il Rolex d'oro, ma anche quello che non si poteva prendere. Sì, sicuramente è stato l'imprendibile fino ad oggi, ma innanzitutto mi consenta di dare un cenno di ringraziamento al generale Pasquale Angelo Santo, di cui abbiamo sentito la voce all'inizio del servizio, e il Ross, che ha svolto veramente un'attività straordinaria, così come il procuratore della Repubblica di Palermo, con il suo procuratore aggiunto, e i magistrati che vi hanno partecipato. È stata un'indagine di grandissimo livello e grandissima importanza, che ha impegnato tanti magistrati, forze dell'ordine, per anni. E questo è stato il risultato di quel sacrificio. E quindi quei magistrati, quelle forze dell'ordine, vanno ringraziati e vanno sostenuti. E noi che siamo la politica abbiamo il compito di sostenerli. Ecco, chi è Matteo Messina Denaro? È innanzitutto l'erede di Totò Riina. Totò Riina venne arrestato nel 1993 e diciamo che... Infatti sono 30 anni e anche questa coincidenza colpisce, no? Infatti. 30 anni dall'arresto e finisce dopo 30 anni la latitanza di Matteo Messina Denaro. Esattamente. E Matteo Messina Denaro è il successore di Totò Riina, è quello che sostiene la strategia stragista continentale. Quindi Roma, Firenze, Milano, un impegno enorme che viene portato avanti da Cosa Nostra, una vera e propria dichiarazione di guerra. Ma aveva partecipato ancora prima le stragi di Capaci, di Via D'Amerio e recentemente anche... Era lui che aveva fatto il sopralluogo a Roma per uccidere Falcone. Esattamente, il sopralluogo che fece sia per Costanzo che per Falcone. E poi invece si decise di rimandare, no? Totò Riina ha deciso di rimandare. Deve essere ucciso a Palermo, perché a Palermo avrebbe avuto naturalmente una risonanza enorme. Ed è quello che poi naturalmente è avvenuto. Ma chi è Matteo Messina Denaro? Non è soltanto l'uomo che ha portato avanti quella strategia. Il riferimento verticistico, apicale di Cosa Nostra, pur rinnovata. E certamente è stato l'unico a sopravvivere alle attività investigative che hanno portato all'arresto di tutti i capi cosca mafiosi di Cosa Nostra. E quindi è stato l'unico che ha potuto continuare a portare avanti quel messaggio. E direi anche il carisma che si accompagna a chi è stato l'uomo di fiducia di Totò Riina. Il padre Francesco era capomandamento. Ciccio, no? Esattamente. Nelle cronache mafiose lo conosciamo come Ciccio, che era l'alleato forte di Riina. Era uno degli uomini di fiducia, legato in modo strettissimo a Totò Riina. Quando muore nel 1997 Matteo Messina Denaro prende il suo posto di capomandamento. Quindi è un riferimento in tutto il periodo in cui lo Stato fa guerra alla mafia. E questo via via gli dà un livello sempre maggiore di affidabilità, attendibilità. E quindi cresce come figura di riferimento in quel mondo. E anche il mafioso 4.0 è quello che gestisce gli affari di Cosa Nostra, è quello che reinveste il denaro, è quello che si occupa a livello internazionale del traffico di stupefacenti. Bene, dopodiché però voi dovete aiutarmi perché avete l'esperienza, le conoscenze per aiutarmi a capire com'è stato possibile. Perché io capisco che l'onorevole Sisto dica attenzione oggi è un giorno importante ed è un giorno in cui lo Stato vince e la mafia perde. Lo diamo per acquisito questo. Però è una vittoria, possiamo dire, amara, nel senso che è una vittoria che arriva dopo 30 anni di latitanza. E allora la domanda che ci facciamo e che si fanno probabilmente anche i nostri telespettatori è come è stato possibile. Diceva bene Sisto, si è beffato dello Stato, è rimasto latitante per 30 anni. Mi permetto di dire che andava in clinica facendosi chiamare Andrea Bonafede, sarà un caso la coincidenza con il ministro della giustizia Bonafede, ma andava in ospedale facendosi chiamare Bonafede. Come è stato possibile, chiedo a Caffiero Reao? Negli anni sono state sviluppate tantissime indagini che di volta in volta evidenziavano che Matteo Messina Denaro aveva delle reti di uomini professionisti, imprenditori, che avevano un livello anche significativo nella società. Uomini che costituivano i suoi riferimenti e attraverso di essi poi riusciva a gestire gli affari. E questo è innanzitutto il primo aspetto che dobbiamo sottolineare, perché Matteo Messina Denaro, come diceva giustamente, non è il mafioso con la coppola e la lupara, è il mafioso che utilizza tutti gli strumenti più moderni. E qui è il 4.0, no? Il 4.0, il web, utilizza la valuta virtuale, utilizza questi canali più protetti, investe, utilizza imprenditori, si mette nei vari settori dell'economia. Però deve avere una rete straordinaria se riesce a farlo in 30 anni, cioè in costanza di una latitanza. Non è una rete, ma ha diverse reti. Perché quante indagini sono state sviluppate e quante volte è stata tagliata la rete? E perché è stata tagliata solo la rete e non è stato tratto in arresto lui? Perché evidentemente in qualche modo è riuscito a sottrarsi, perché identificata e individuata la rete, sviluppate le indagini, si sarebbe dovuto arrivare a lui. E invece di volta in volta l'indagine non conduceva più a lui, perché se ne perdevano le tracce. Quindi anche questo è importante. Quale capacità avesse di acquisire informazioni, quindi di conoscere quel che veniva sviluppato e solo attraverso queste sue informazioni è stato capace di sottrarsi di volta in volta all'arresto. Io, quando ero procuratore nazionale, vi a dire lo arresteremo fra non molto, proprio perché vi erano indagini molto significative che concretamente portavano a lui. Vi era una rete, vi erano i pizzini che venivano... Ma questo significa che a un certo punto ha fatto un errore o qualcuno lo ha tradito? Arriva, arriva o sisto? Cioè proprio perché noi sappiamo che per 30 anni a retto ha funzionato questo schema, che quando ci si avvicinava troppo a lui, lui era in grado in un modo o nell'altro per fedeltà di chi lo aiutava in questa latitanza, per connivenza, per quello che vogliamo, era in grado di sfuggire poi alla giustizia. Se adesso cade nella rete della giustizia è perché c'è un errore, perché c'è un tradimento da parte di qualcuno? Senza volermi riferire al caso specifico... No, no, io mi chiedo aiuto alla sua esperienza, diciamo, come magistrato. Voglio dirle che di volta in volta i latitanti si prendono quando il gruppo che procede alle indagini è molto ristretto e non parla con nessuno. E quindi l'informazione e via via il percorso investigativo resta nella disponibilità di pochissimi. Di poche persone. E noi a Reggio Calabria, quando ero procuratore della Repubblica, abbiamo arrestato latitanti di oltre 30 anni. Capicosca di grandissima importanza. Come? Con gruppi sempre molto ristretti. Senza che nulla trapelasse di volta in volta, ogni passo che si faceva restava in pochissimi uomini. E poi solo al momento dell'intervento partecipavano gli altri, veniva cinturata l'intera zona e si interveniva. Ecco, posso immaginare che una cosa analoga è avvenuta in questo caso. De Rao ha sentito la dichiarazione di Baiardo. Lo Stato ha trattato la sua cattura? È plausibile una cosa del genere? Ma questo per la verità mi sembra poco credibile, soprattutto perché Baiardo, avendo già trattato i fratelli Graviano nel momento in cui riferisce una vicenda di questo tipo, certamente a mio avviso non può averla preso dai Graviano. Non solo per la loro condizione di detenzione speciale al 41 bis, ma anche perché credo che dopo le dichiarazioni che egli ha reso prima del 5 novembre, non sia persona affidabile per i Graviano, quindi non credo che possa essere stato un canale affidabile. È certo però che la circostanza merita un importante approfondimento. È una circostanza fin troppo strana che quasi nei due mesi, come indicato dal Baiardo, si arrivi all'arresto. Allora, intanto noi sappiamo che Rina non ha mai parlato, giusto, Provenzano non ha mai parlato. Possiamo immaginare che le cose vadano diversamente per Matteo Messina Denaro o invece possiamo immaginare che sarà sulla linea dei primi due. Ma qualunque cosa decida di fare, se decide di collaborare oppure no. Possiamo ragionevolmente immaginare che sia depositario di moltissime informazioni? Ma certamente Matteo Messina Denaro sarebbe la cassaforte in cui sono inseriti tutti i segreti di Cosa Nostra, da oltre 30 anni a questa parte. Una cassaforte in cui ci sono tutti i segreti. Tutti i segreti, certo, perché Matteo Messina Denaro è stato il riferimento di Totò Riina. è stata la persona con cui Matteo Messina Denaro parlava, è stato il soggetto che ha tenuto il contatto con tutta Cosa Nostra nel periodo più difficile. E certamente a Totò Riina le informazioni arrivavano e da Totò Riina le informazioni giungevano agli altri. Perché è vero che la detenzione speciale di quell'articolo 41 bis impedisce una comunicazione diretta. Ma non la comunicazione indiretta, che è quella che molto spesso nei luoghi di detenzione speciale è possibile proprio attraverso gli intermediari. Cioè i detenuti che si trovano nello stesso regime speciale e che attraverso i loro familiari poi fanno venire fuori le informazioni. Questi sono i meccanismi che l'attuale sistema penitenziario non è in grado di superare. Perché non ci sono istituti penitenziari capaci di governare perfettamente il 41 bis. E comunque Matteo Messina Denaro è stato quello che ha seguito tutto, prima e dopo. Ed è stato in una latitanza, non al di fuori di Cosa Nostra, ma all'interno di Cosa Nostra. Anche nei momenti di fibrillazione e nei momenti di particolare silenzio, in mancanza di vertici di riferimento. Quindi è stato l'unico soggetto con cui Cosa Nostra certamente ha parlato sempre. Le dice prima, durante e dopo anche le strage. E quando parliamo di quelle famose entità esterne che possono aver collaborato con Cosa Nostra. Cioè è lo stato deviato per capirci. E d'altro canto pensiamo allo stesso Paolo Bellini quando nelle stragi continentali, ancora prima nelle stragi continentali e nel tacco ai beni storici, archeologici e artistici di Firenze, dà il consiglio di attaccare questi beni perché questo poteva essere una delle strategie sicuramente importanti per Cosa Nostra. Ma chi è Paolo Bellini? È la persona che poi viene mandata a giudizio per la strage di Bologna. È un soggetto di enorme pericolosità, ma già evidenzia un rapporto di Cosa Nostra con soggetti estranei a Cosa Nostra. E su cui Cosa Nostra si poggia. Ma se si poggia su un soggetto come questo è evidente che dietro c'è altro. Ma non è solo questo. Le indagini sulle stragi sono costellate di tantissimi elementi. La vedevo scuotere il capo. Cos'è che non torna? Dunque io mi permetto di fare due osservazioni rapide. La prima, questa è un'operazione non conclusa. È evidente che la cattura di Messina Denaro comporterà approfondimenti sulle modalità con cui si nascondeva, era latitante, individuando delle responsabilità di soggetti che eventualmente avessero contribuito a garantirgli questa latitanza. Questa non è un'operazione spot. È un'operazione lunghissima, con grande sforzo investigativo. Quindi è evidente che la cattura comporterà e ha comportato l'approfondimento di tutto quello che si è mosso intorno a Messina Denaro. Quindi oggi non si può giudicare un dato che non è ancora concluso. Sono convinto che la procura di Palermo ha in sé, ha delle informazioni, notizie, investigazioni, indagini, prove o elementi di prova che comporteranno l'allargamento dello spettro delle responsabilità sulla latitanza di Messina Denaro. Questo lo sa bene il procuratore Derao. Qualsiasi procura di media, organizzazione di medio calibro, non cattura un latitante perché lo incontra per strada. Cattura un latitante perché pazientemente è riuscito a raggiungere l'obiettivo. Quindi tutto quello che è stato fatto ovviamente è oggetto di indagine e si tratta comunque di un'operazione soltanto iniziata probabilmente e non ancora certamente giunta al termine. Secondo, per quanto concerne la cosiddetta mafia keynesiana a cui faceva riferimento il procuratore Derao, cioè quella mafia che distrugge le opere pubbliche per poterle poi ricostruire, il business non è la distruzione, il business è la ricostruzione che molto spesso può essere affidata a soggetti della stessa mafia che possano sempre con cilindro e bastone raggiungere l'obiettivo di profitti all'interno della pubblica amministrazione. Questo è un altro tema che certamente può e deve essere affrontato ma che ovviamente risente dello grande sforzo investigativo che certamente la procura di Palermo ma anche la direzione nazionale antimafia a cui badolosamente ha tenuto testa il procuratore Derao sa bene come orientare. Quindi oggi io dico abbiamo un risultato, un grande risultato. Tutto quello che avverrà, tutto quello che sarà oggetto di indagini è benvenuto. Io non so se Messina Denaro collaborerà o meno con le istituzioni. Dico soltanto che oggi noi siamo in condizioni di aver tolto alla mafia, come posso dire, un totem, una specie di simbolo che in qualche maniera teneva testa anche allo Stato. Oggi lo Stato ha tagliato quella testa della mafia ed è in condizioni di dire ai cittadini che lo Stato, come abbiamo detto più volte, ha vinto, prevale sui cittadini. E sicuriamoci se... Per oggi, tutto quello che accadrà dopo ovviamente è benvenuto. Tutto quello che accadrà sarà benvenuto soprattutto se, diciamo, quei segreti, quella cassaforte si dovesse aprire. Giusto? Certo. Cioè, la domanda che mi faccio io tra l'altro... Posso aggiungere un'altra cosa? Sì, prego, prego, Sisto. No, volevo aggiungere una cosa rapidissima. Volevo porre sul tavolo di questa discussione un altro tema caro ovviamente anche al Procuratore Derao, quello della collaborazione. Perché il tema dei collaboratori e delle dichiarazioni di collaboratori estemporanei o inattendibili, ovviamente, come ben sappiamo, deve essere sottoposto alla verifica e ai riscontri cosiddetti oggettivi. Su questo non entro nel merito perché è una discussione giurisprudenziale enorme. Però attenzione alle voci che gridano nel deserto, a quelle voci che televisivamente cercano di accreditarsi in qualche modo, e ha ragione il Procuratore Derao, vi è una valutazione di attendibilità o inattendibilità che al di là del clamore mediatico e dell'effetto che fa, del suono che produce, una campana che comunque suona... Non a caso ne parliamo con voi, insisto, proprio perché cerchiamo di contestualizzare le cose, di dargli un nome, un cognome e anche una patente di attendibilità oppure no. Però provavo a dire, la cassaforte con dentro tutti i segreti, vediamo se si apre, vediamo se non si apre, perché sarebbe importante aprire quella cassaforte? E tenendo presente che c'è anche una contestualità che colpisce, cioè Messina Denaro viene arrestato nei giorni del trentennale dell'arresto di Totorrina. Anche lì si dice che nella mafia nulla è casuale, no? E quindi potremmo immaginare che ci sia anche qualcosa di simbolico in questo, però chiedo a lei ovviamente. Beh, potrebbe esserci, ma sono evidentemente delle mere supposizioni. Quel che invece mi suscita... Di sicuro sembra un cerchio che si chiude, no? E ci fa pensare proprio alla cassaforte e a quello che è contenuto. Un intervento è proprio quel che poco fa menzionava il Vice Ministro Sisto, i collaboratori di giustizia. Per avere collaboratori di giustizia è necessario che vi sia una disciplina importante. E soprattutto che i collaboratori di giustizia vedono attraverso quel percorso un obiettivo. Ecco, e proprio qualche giorno fa si è chiuso il percorso parlamentare per quanto concerne i benefici penitenziari ai mafiosi. E qui devo dire che il Movimento 5 Stelle, con me in particolare, avevano chiesto, ma già prima in Senato, che fossero introdotti alcuni punti specifici nella legge. Perché? Perché consentire l'accesso ai benefici penitenziari, in modo che le condizioni sono più vantaggiose, favorevoli, rispetto a quelle che si trova ad affrontare il collaboratore di giustizia, è come dire, non collaborate, ma attendete i vostri anni e poi tornerete comunque in libertà o comunque a godere di uno dei benefici. Perché questo? Perché noi avevamo chiesto che alcuni punti fossero rispettati. Cioè che il mafioso dovesse, così com'è per il collaboratore di giustizia, nel momento in cui intende accedere ai benefici, dichiarare tutti i propri beni, qual è il patrimonio di cui dispone. Perché già questa è una manifestazione effettiva. È un'indicazione del fatto che vuole collaborare. Secondo, le ragioni per cui non ha collaborato. Ma non vuole questo spingere il mafioso a collaborare necessariamente. Vuole soltanto far chiarire perché non collabori. Cioè detenga ancora, casomai, il mafioso, quell'imperativo dell'omertà, che è il pilastro su cui si muove l'associazione mafiosa. Allora spieghi perché. Se non è questo, e allora ben venga anche l'ulteriore percorso. Queste erano le due condizioni che... La terza condizione, la più importante, il ravvedimento. Il ravvedimento è qualcosa che non ha fatto beneficiare Giovanni Brusca della detenzione domiciliare, pur essendo prossima all'espiazione della pena, la scadenza quindi della pena, meno di un anno. Eppure il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare perché non si era ravveduto. Il ravvedimento non è... Prego, sisto, no, te potevo un po' velocizzare. Non è revisione critica, è pentimento civile. È qualcosa di molto più importante, è un percorso interiore. Questo si chiedeva. E tutte e tre queste richieste non sono proprio state ascoltate. La legge è passata così come era. Perché non l'avete ascoltato? No, con molto... Scusi, allora con molto garbo capisco bene che parliamo ad un pubblico ministero storico, sia pure adesso in quiescenza e parlamentare. Mi sto abituando ad avere come interlocutori illustri pubblici ministeri in quiescenza, ben venga. Però capisco il punto del pubblico ministero. Il Parlamento rammenterà al Procuratore De Rao che c'è una sentenza della Corte Costituzionale sul tema dell'ergastolo stativo. Il Parlamento ha rispettato la sentenza della Corte Costituzionale. Capisco lo spirito inquisitorio del pubblico ministero, capisco la scelta giustizialista dei Cinque Stelle, ma non capisco come si può chiedere al Parlamento di smentire quello che la Corte Costituzionale ha scritto in modo molto chiaro. Lo sa benissimo che l'ergastolo stativo è tornato in Parlamento per questo intervento a piedi uniti della consulta e il Parlamento sia adeguato a questo intervento della consulta. Non si poteva fare altrimenti, questo è il punto. Non posso che riportarmi a quello che la Corte Costituzionale ha detto con molta chiarezza. Non si può inibire un beneficio ad un soggetto che non ha nulla da dire dal punto di vista della collaborazione, ma prima se non collaborava non poteva avere il beneficio. Allora se quel soggetto non ha nulla da dire perché non sa come collaborare, ha detto la Corte, è assolutamente impossibile, secondo la Costituzione, impedirgli il beneficio. Poi sul resto la politica è politica, la Corte Costituzionale è Corte Costituzionale, il PM è PM, il giudice è giudice, ma credo che il Parlamento bene ha fatto a seguire le indicazioni della stessa Corte Costituzionale. Giornalista è giornalista, deve andare in pubblicità, tanto torniamo, così vi do la possibilità di chiedervi ulteriormente pubblicità e torniamo tra qualche minuto. Tra l'altro, clinica privata dove ricordiamolo si era presentato come Andrea Bonafede, pare che si curasse lì da un anno in cura per un tumore, sembra, cioè erano cure oncologiche quelle che andava a fare lì, oggi avrebbe dovuto fare questa terapia in dei hospital. Questo apre anche l'interrogativo rispetto alla sanità che spesso abbiamo visto in qualche modo collegata alla mafia, non sto dicendo che sia il caso di questa clinica, ma insomma è ovvio che ci è venuto da pensare quando abbiamo saputo del dei hospital e comunque della presenza da un anno in questa clinica. Ripeto, su questo si esprimeranno i magistrati, semplicemente uno riva con la mente ad altri episodi, ad altri rapporti con la stramafia e sanità e l'altro elemento è a proposito di un eventuale pentimento, di un'eventuale collaborazione, il fattore malattia probabilmente Caffiero De Rao non aiuta perché talvolta la collaborazione passa per il fatto che io ottengo dei benefici e posso costruirmi una vita da un'altra parte. In questo caso forse non è una buona notizia, al di là del fatto che non lo è per Matteo Messina Denaro a prescindere quella di avere una malattia oncologica. Prego. Certo, il fatto che sia malato lo proietta in una struttura ospedaliera, ma la struttura ospedaliera può essere anche dentro il carcere, quindi comunque determina una situazione di assoluto isolamento e quindi l'impossibilità di comunicare, l'esigenza di avere gli affetti tanto più che in un momento di difficoltà patologica si ha maggiore bisogno di persone vicino, di familiari e quindi tutto questo è vero, in qualche modo bilancia anche la condizione patologica nello stesso momento, quindi ci lascia ben sperare e lascia ben sperare anche perché può essere uno svantaggio ma anche un vantaggio. Nello stesso momento abbiamo delle forze dell'ordine, una polizia giudiziaria, il ROS così specializzato e così capace comunque di entrare nella confidenza del soggetto in modo tale da creare anche un legame personale. Le grandi collaborazioni nascono in genere da questo, da un rapporto personale dei carabinieri o di poliziotti o di finanzieri con il soggetto arrestato dopo un lungo periodo di latitanza e finisce nell'ambito di un colloquio quasi come una misura psicologica che sostiene ma al tempo stesso induce ad aprirsi e a creare un nuovo rapporto e questo può essere veramente foriero di una nuova collaborazione, per cui diciamo che ottimisticamente guardo questo in modo positivo. Qualche possibilità c'è che alla fine decida di collaborare, dopodiché Sisto, diciamo che oggi con l'arresto di Messina Denaro si chiude una fase della mafia come l'abbiamo conosciuta, della mafia stragista, ma noi siamo andati a vedere l'elenco, ancora ne mancano parecchi da arrestare, dovremmo avercelo questo elenco da qualche parte, anche se non stiamo più parlando di quella mafia lì, quei signori lì nel frattempo, adesso Messina Denaro credo abbia 60 anni, ma insomma gli altri quelli che erano titolari delle stragi sono tutti piuttosto anziani, queste sono tutte persone invece che ancora dovrebbero essere arrestate. Sisto? Ma è in dubbio che la lotta alla mafia non finisce con Messina Denaro, continua e direi da questo punto di vista lo Stato rimane vigile, diciamo che abbiamo vinto una partita importante ma il campionato è ancora lungo, probabilmente sarà lunghissimo perché poi la mafia è una creatura proteiforme che non si riesce sempre ad incasellare in perimetri definiti, io credo che oggi diciamo c'è un punto fermo da cui partire, ecco è una sorta di punto di ripartenza se può essere utilizzata questa espressione, per intensificare la lotta alla mafia, alle mafia, ai latitanti, nella consapevolezza che se siamo stati capaci di porre fine alla latitanza di un uomo così potente e così importante per la mafia li possiamo davvero andare a prendere tutti, cioè non vedo oggi più nessuno che possa essere più forte di Messina Denaro capisco c'è anche la potenza del simbolo, dice Sisto, è oggettivamente un simbolo è una, è una, è una, e devo dire che è un punto di vantaggio che fa anche morale nella lotta alle mafie, diciamocelo francamente però a proposito di mafia, chiedo a Denaro che si è occupato anche di Camorra, di Andrangheta questo colpo inferto alla mafia, nel senso di organizzazione criminale della Sicilia, per capirci, indebolisce la mafia rispetto alle altre mafie, rispetto alla Camorra, rispetto all'Andrangheta? Ma non è certo l'arresto di Matteo Messina Denaro a indebolire Cosa Nostra, Cosa Nostra era una struttura oramai molto forte, radicata, di volta in volta quando sono stati arrestati i vertici, è stata capace di rinnovarsi nell'organigramma, di individuare i soggetti più adatti, di continuare nelle proprie attività, diciamo che è come se fosse una grande società per azioni, che ha tanti collegamenti e tante capacità di operare in settori diversi l'arresto è importantissimo, perché toglie dal panorama dei mafiosi un soggetto storico e però al tempo stesso la mafia continua ad esiste a operare con la stessa forza e soprattutto è così presente sui mercati, per cui è necessario trovare anche degli strumenti operativi che siano più adatti all'operatività attuale, non solo della mafia ma dell'Andrangheta come della Camorra. Quindi delle mafie, diciamo. Delle mafie. Questo mi porta dritta dritta, mi scusi se la interrompo, ma mi veniva in mente che lei spesso ha lanciato l'allarme, attenzione, anche per esempio in funzione del PNRR e non solo in relazione al governo Melone, anche ai governi precedenti. Lei ha lanciato l'allarme sul fatto che le mafie cercano di infilarsi laddove ci sono i soldi e il PNRR è un piatto ricco, quindi lei dice attenzione perché lì le organizzazioni mafiose possono facilmente provare ad intervenire. È stato ascoltato fino a questo momento perché lei poi dice invece stanno diluendo le regole e quindi i controlli. Vero o falso le chiedo e arrivo d'assisto. Il contrasto alle mafie lo si fa attraverso un apparato legislativo e un apparato operativo che sia pienamente efficace. Via via assistiamo invece quasi allo smantellamento di determinati aspetti. e mi riferisco in particolare a quel colpo che è stato dato all'eliminazione dei reati contro la pubblica amministrazione dalla normativa sull'accesso ai benefici penitenziari. Perché è importante? Proprio perché oggi la mafia ha una fisionomia e un'operatività totalmente diversa. Quindi la capacità di infiltrazione è molto forte. Oggi l'arma della mafia è la corruzione. Oggi la mafia si muove con le società. Le società sono presenti in tutto il territorio nazionale e all'estero. Vengono costituite società all'estero attraverso le quali poi in coordinamento con le società operanti in Italia riescono a gestire milioni e milioni di euro. E lei dice che stiamo abbassando la guardia per velocizzare le coste. No, però su questo vorrei intervenire. Questo è anche un brutto segnale all'esterno. Perché molto spesso ho sentito dire che la corruzione rappresenta un reato ordinario. Ma non è così. La corruzione è un reato molto speciale, come la mafia.